Ciao a tutti, benvenuti a Viaja con Laia. Oggi è nel corso di accompagnatore turistico, capitolo 1, seconda parte. Iniziamo per la pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione è l'insieme di organi e azioni che usa l'Estatto per esercire il suo potere esecutivo. L'Estatto ha tre poteri. Il potere legislativo, cioè quello di emanare leggi, il potere giudiziario, cioè di punire, di giudiziare le persone che violano la legge e il potere esecutivo, cioè l'administrazione. Come è organizzata la pubblica amministrazione? La pubblica amministrazione può essere diretta o indiretta. Diretta si è svolta direttamente di organi dell'Estatto. Indiretta si lo svolge altri enti. Può essere centrale, sia nella capitale, cioè in Roma, o periferica, sia nei altri posti, sia decentralizzata. Allora abbiamo amministrazione diretta-centrale, diretta-periferica, indiretta-centrale e indiretta-periferica. Pubblica amministrazione e turismo. Le linee di intervento della pubblica amministrazione seguono una linea di decentramento, cioè che ha più forza le regioni. Iniziamo per gli organi di amministrazione diretta-centrale, cioè che hanno funzione di Stato, di organi dell'Estatto, in la capitale, cioè Roma. Abbiamo cinque punti. Per primo è il ministro di turismo. Il ministro del turismo è un ministro senza portafoglio, già che i competi sono delle regioni. Poi abbiamo il dipartamento per il sviluppo e la competitività del turismo. Abbiamo la conferenza Stato-Regioni, la conferenza nazionale del turismo e il comitato permanente per la promozione del turismo in Italia. Gli organi dell'administrazione diretta-periferica. Qua non ci sono. Gli organi dell'administrazione indiretta-centrale. Ne abbiamo tre. L'ENIT, Ente nazionale per il turismo. ACI, Automobile Club Italiano. E CAI, Club Alpino Italiano. La legge è il turismo. Nella parte 1, del capitolo 1, abbiamo parlato della legge, ma ora entriamo un po' nella legge del turismo. Prima c'è gli anni 30, con la seconda guerra mondiale, c'è il controllo, il controllo delle spostamenti delle persone che volevano viaggiare. Qua sono due leggi importanti. Per prima abbiamo il testo unico di pubblica sicurezza del 1931. E poi la legge che attribuisce le categorie all'agenzia di viaggio, nell'anno 1937. Poi abbiamo gli anni 50, l'adeguamento. Finita la seconda guerra mondiale, c'è un adeguamento a questo paese democratico che stava nascendo. Qua abbiamo due leggi importanti. Per prima le licenze per l'agenzia di viaggio nel 1955, prima che era affidato al Ministero della Stampa e Propaganda. Poi diventa compito dell'EPIT, Ente Provinziale per il Turismo. E poi abbiamo la legge, il 1959, che il Ministerio del Turismo è l'Espettacolo. E il Commissariato del Turismo diventa un Ministero, perché poi è abrogato nel 1993 per un referendum popolare. Negli anni 70 abbiamo una crescita del turismo di massa, per questo c'è la responsabilità. Qua abbiamo due leggi importanti. Per prima la Convenzione internazionale sui contratti di viaggi, CVV, nel 1977. È una norma che regola i contratti di viaggi, i rapporti tra viaggiatore e gli operatori turistici. Questa legge però è abrogata con il Codice del Turismo nel 2011. Poi abbiamo la legge 110, che è la Convenzione europea degli albergatori, che regola la responsabilità degli albergatori rispetto alla protezione della proprietà dei loro clienti. Poi abbiamo la svolta del 2001. Per una parte abbiamo la cultura del decentramento e per l'altra parte la necessità di creare un'offerta turistica omogenea. Per questo nel 2001 abbiamo due leggi. Prima la riforma della legislazione nazionale per il turismo e poi la legge costituzionale di revisione del titolo 5. Ovviamente questa seconda è privata sulla prima. La legge costituzionale rinforza le regioni come compito per il turismo. Nel 2011 abbiamo il Codice del Turismo. Un'altra volta l'Estatto prova di prendere il compito del turismo in Italia. Ma poi tanti articoli sono stati abrogati perché diventa incostituzionale. E con questo abbiamo finito il capitolo 1 dell'accompagnatore turistico. Ci vediamo presto per il capitolo 2.